La recinzione è perforata in più punti e all'interno evidenti segni di bivacchi e di continui abbandoni di rifiuti. È la situazione che si può facilmente notare nel vecchio cantiere mai terminato di punta est in via Vallone a Pavia. L'area era finita sotto sequestro una dozzina di anni fa nell'ambito dell'inchiesta della procura del capoluogo. Una nuova area residenziale trasformatasi invece negli anni in una calamita di degrado, come segnalato da un residente della zona, ai nostri microfoni. Ecco sì, purtroppo era già stata segnalata la presenza di persone, so che era intervenuta la polizia locale allontanandole, verificando l'identità, poi ovviamente è una situazione che non è controllabile perché la rete di cantiere non permette di chiudere in modo ermetico e quindi ci sarà purtroppo sempre la possibilità che qualcuno entri come abbiamo visto. Infatti le immagini parlano chiaro, ci sono ogni tipo di rifiuti abbandonati di dentro, sia magari cose portate da persone che le utilizzano per bivaccare, per abitarci o gente che le usa veramente come discarica a cielo aperto. La situazione di degrado riguarda anche l'area verde situata all'esterno del cantiere di punta est. Passeggiando per qualche centinaia di metri in via Vallone si possono vedere rifiuti di ogni tipo. Lo scorso weekend i volontari di Plastic Free hanno ripulito la zona, formando diversi mucchi di spazzatura lungo la strada che a SM Pavia provvederà a rimuovere. La quantità di rifiuti è davvero impressionante. E sì, questo è un altro problema, purtroppo essendo una via un po' nascosta e periferica l'usanza cattiva è quella di passare con le macchine e lanciare i propri rifiuti giù nella scarpata a fianco della strada e si crea veramente un tappeto di immondizia importante come mole e fortunatamente i volontari di Plastic Free hanno, come abbiamo visto, fatto un intervento, però chiaramente incomio il loro lavoro ma non possiamo sempre affidarci alle iniziative private.